Ci sono degli spazi piuttosto significativi ad Acileale e sono quattro beni confiscati alla mafia. Si tratta di una villa al mare, due appartamenti e un deposito magazzino a Santa Maria degli Ammalati. Sappiamo bene che già tutta la procedura per l'assegnazione e la fruizione dei beni confiscati dalla mafia è particolarmente farraginosa e molto spesso demotiva le amministrazioni comunali a prendere in carico dei beni, soprattutto dei beni immobili che poi devono essere gestiti in qualche modo. C'è però Acileale un problema molto serio, non si parla mai di mafia, quasi in nessuna sede. Io lo vedo anche nel mio lavoro a Catania, se ne parla pochissimo anche a Catania, ma a mio avviso ad Acileale siamo messi peggio che a Catania, sia sul piano della stampa che sul piano sociale. Quando gli argomenti di discussione ci sarebbero e come? 20 giorni fa è arrivata a sentenza vicere, tanto per dire che ci racconta di come il clan Laudani infesta alcuni dei quartieri di Acileale e qualche giorno prima era arrivato a sentenza in Cassazione e anche Iblis, che coinvolge anche dei nomi accesi. Su questo tema, quello dell'antimafia, che atteggiamento vorrete tenere? E questi spazi li vorrete gestire davvero? Avete idea di coinvolgere le associazioni culturali nella gestione dei beni confiscati dalla mafia di Acileale? Secondo me, intanto la sensibilità sul tema, io personalmente, ovviamente non solo io, sono molto sensibile a questo tema, ho avuto modo già di dirlo più di dieci anni fa, sono stato uno dei soci fondatori dell'associazione anti-racket ACS, Rosario Livatino, che ha dato il suo contributo nel tentativo di supportare le aziende e le persone sotto estorsione mafiose, comunque sotto qualsiasi degli aspetti connessi al fenomeno mafioso. È un argomento a cui sono molto sensibile, io ho tenuto fin dall'inizio della campagna elettorale a sottoscrivere un contratto di legalità che impegnasse sia durante la campagna elettorale sia un'eventuale amministrazione di rea rispettare dei principi che vanno anche un po' più in là di quello che è previsto dalla legge corrente, adeguandosi a quello che ha raccomandato la Commissione parlamentare antimafia che in questo momento va anche un po' oltre la normativa vigente. Quindi per quanto riguarda invece i beni confiscati alla mafia, secondo me fanno parte, sono dei beni utilizzabili di cui quindi l'amministrazione si deve fare carico e che devono rientrare nel contesto di quel censimento di beni disponibili e una delle applicazioni potrebbe essere degli utilizzi, scusate potrebbe essere anche questo, rivolta a questa tipologia di attività ma che potrebbe anche essere fatta su altri, cioè una volta acquisito il patrimonio che provengano dalla mafia o meno, poi è la loro utilizzabilità e come loro si prestino al tipo di attività che prevediamo di farne che porterà l'amministrazione a scegliere quale utilizzare. Alì sullo stesso dato. Sì, questo è un tema molto importante perché è anche di esempio. Io effettivamente ho guardato prima, non ultimamente, però avevo cercato sul sito dei beni del patrimonio, dei beni confiscati, però non ho trovato dei beni ad Acireale. Figuramente una delle prime azioni che farò se dovessi essere eletto è interessare l'ufficio del patrimonio per venire in possesso di questi beni. Dopodiché, una volta a secondo anche della localizzazione e l'utilizzo che se ne può fare secondo la destinazione d'uso, trovare l'utilizzo più adatto per associazioni, per i ragazzi, perché sono tante le associazioni che hanno bisogno di spazi ad Acireale.